Siamo in piena campagna elettorale a Torre del Greco, il 14 maggio si andrà a votare, i candidati e sindaco stanno girando per la città, in particolare nella zona qui delle piazzette per incontrare i cittadini e i commercianti, lei che ne pensa? È giusto, però che non si facessero vedere solo nel momento che bisogna fare le elezioni, ma anche dopo, e che facciano qualcosa per la nostra città, perché siamo rovinati. Quali sono le sue richieste da cittadina? Di cercare che ci siano più vigili per la strada, che controlli di più, che ritorni a essere la nostra vecchia Torre del Greco, che non è più così. Com'era prima Torre del Greco? Era migliore, adesso no, è abbandonata a se stessa, non ci sono regole. Almeno secondo me. Ciro Borril è un grande sindaco di Torre del Greco, lui ha fatto tanto per questa città di Torre del Greco. Che cosa ha fatto? Ha fatto tutti i lavori, tutti quelli che si doveva fare a Torre del Greco, solo Ciro Borril l'ha fatto. Quindi lei voterà Ciro Borril? Io porterò sempre Ciro Borril e forse il dottor Ciro Borril. In queste settimane i candidati a sindaco della città di Torre del Greco stanno girando qui per le storiche piazzette di Torre del Greco per incontrare la gente e i commercianti. Lei cosa ne pensa? Se girino adesso, devo girare anche dopo quando sono state votate e vanno al comune, per vedere un po' come si cammina per la piazzetta, perché solo quando in tempo della pandemia si poteva camminare, adesso è tornato un'altra volta un caosso. Questa attenzione e questo interesse si vede solo nella campagna elettorale? Sì, ma è stato sempre così, vi ricordo è stato sempre così. Andrà a votare? E' meglio, purtroppo sì, purtroppo sì. E' sfiduciata, e' delusa? Tanto, tanto. Perché? Ebbè si sa, no? Che questi sindaci vogliono solo le loro cose. Non pensano i cittadini al bene comune? Niente, però assolutamente. Comunque va, i torresi perdono. In che senso? In che senso? Comunque non abbiamo mica la politica a tutti i grecchi. Che significa avere la politica? E' vedere la politica sul territorio, a Munizzi che sta per strada, qualche cosa, io vedo proprio un degrado da vent'anni. In questa città i politici si vedono solo durante la campagna elettorale? Verissimo. Sono passati anche qui in piazzetta, stanno passando? Sicuramente. Questa città di cosa ha bisogno? Di un po' di pulizia, un po' di ordine e pulizia. Non vi so dire, altri servizi non sono della zona, sono della litorania. Quali sono i problemi della litorania? Sempre la stessa cosa, la pulizia, quello che viene a mancare, e il contenitore della spazzatura. E' uno schifo, faccio la differenziata, ma a terra sta uno schifo. Adesso che viene l'estate, corrono pure i topi, quindi non va bene. Alla litorania si sta bene, ma solo d'estate, perché c'è più ordine, ma d'inverno rimane sempre così. Chiedo che aggiustino lo stadio e basta. Basta, questa città ha bisogno solo dello stadio? No, non solo dello stadio, poi, se volessimo parlare con i vecchi, se volessimo parlare con i vecchi, se volessimo parlare con la roba. Ma è vero che i politici si vedono solo durante la campagna elettorale? Ma io veramente non conosco proprio i politici, e non mi interessa ne manca. Quindi i futuri candidati lei non li conosce? No, non conosco e non li voglio neanche conoscerlo. Siamo prossimi alle votazioni, ma è vero che i politici si vedono in giro, in città, solo durante la campagna elettorale? Eh sì, è proprio così. Solamente durante la campagna elettorale. Poi non si vedono più. Quando hai bisogno di loro, già non ci sono. In questo momento sono tutti amici, ma... Poi, quell'amicizia passa subito, quando con me pegliano i loro posti, arrivederci e grazie. Lei che ne pensa dei candidati? Li voglio troppo bene, perciò è inutile parlarne. Non credo a nessuno di loro, solo parole, chiacchiere e basta. Il resto è noia. Ma questa città di che cosa ha bisogno? Questa città ha bisogno di gente che sa fare il suo lavoro. Questa è la cosa importante, organizzare la città. Per organizzare la città ci vogliono persone che vogliono bene la città. Quello che purtroppo manca. Pensano sempre solo a loro e le loro tasche.